Colpito al cuore da almeno cinque fendenti sferrati con un coltello da cucina, così è morto Paolo Fiorentino giovedì nell'alloggio abusivo occupato all'ex campo profughi di Marina di Carrari. Davanti al GIP Marta Baldasseroni si è tenuta l'udienza di convalida dell'arresto del presunto omicida, il 67enne senza fissa dimora Francesco Di Blasi. In aula l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma intanto cominciano a diradarsi le ombre sulla dinamica. Per conoscere con esattezza i dettagli della vicenda bisognerà attendere il risponso dell'autopsia, che è stata affidata dal pubblico ministero Elena Marcheschi ai medici Legani Pisani, Maiese e Manetti, e che è già stata effettuata, tanto che la salma è già stata restituita ai familiari. Da quanto trapela dai primi riscontri, sembra che il numero delle coltellate con cui è stato straziato il corpo del 46enne originario di Casoli, in provincia di Chieti, sia stato almeno di cinque. Di queste qualcuna ha colpito il cuore, ma quale sia stata quella fatale? Lo si potrà sapere solo dopo l'esito degli esami. Questi saranno decisivi anche per stabilire l'ora del decesso e chiarire se la vittima avesse assunto alcol o altre sostanze. Intanto il GIP non ha convalidato il fermo di Di Blasi perché, anche alla luce del fatto che si sia costituito di propria spontanea volontà, il magistrato non ha ritenuto esserci pericolo di fuga.